Questa volta, nonostante si tratti di elezioni politiche, non hanno vinto i partiti. A Casal di Principe, nel Casertano, sono scesi in campo persone di tutte le estrazioni culturali, sociali e ideologiche in ambo gli schieramenti, ma con un unico, comune denominatore, la lotta alla criminalità organizzata. Così, chiunque avesse vinto, a perdere sarebbe stata la camorra. Ad aggiudicarsi la fascia di sindaco alla fine è stato Renato Natale, uomo impegnato nelle associazioni da diversi anni e sindaco nel 1994, l'anno in cui morì per mano dei killer della camorra Don Peppe Diana. Dal suo sacrificio arriva oggi per Casal di Principe un vento di cambiamento. Vicino alla sua tomba, io ho promissi a Don Peppe, vicino alla sua barra, nella sua chiesa, che non sarebbe stato dimenticato la sua morte, che sarebbe stato diventato un simbolo del riscatto della voglia di cambiamento. E così è stato. Già nel ventennale che abbiamo celebrato, a marzo, la partecipazione popolare è stata massiccia. La speranza adesso è che con l'aiuto di tutti e dopo aver avuto l'amministrazione commissariata per infiltrazione camorristica, si riesca a togliere a questi luoghi l'etichetta di Gomorra e a farli conoscere al mondo come le terre di Don Peppe Diana. La speranza è quella che il nostro popolo, la nostra gente, i nostri giovani possono girare per avere il mondo, dicentosi di Casal di Principe e poterlo fare con orgoglio e con fierizia.